Sono stati designati gli arbitri per la 27esima giornata di Serie B che si aprirà domani sera con l'anticipo tra Bari e Latina. Sabato pomeriggio, big match tra il Cagliari primo in classifica e il Pescara terzo, affidato a Rosario Abisso di Palermo. Non ancora trentenne che in questa stagione non ha mai incontrato i biancazzuri. In casa Pescara si rischia la vera e propria emergenza difensiva. Al centro della difesa resta in dubbio Ugo Campagnaro, se non dovesse farcela, viste le altre assenze nel reparto. Accanto a Zuparic giocherebbe Mandragora, adattato centrale difensivo, proprio nella partita più difficile. Oltre a Campagnaro non si sono allenati i due portieri, Aresti e Fiorillo, quest'ultimo alla febbre, così come Verde. Certo è che se dessero forfè entrambi i portieri ci sarebbe da essere molto preoccupati, ma alla fine siamo certi che non sarà così. Rientrano dalla squalifica il centrocampista Valerio Verra e l'attaccante Gianluca Caprari, ma potrebbe esserci una possibilità per giocare dall'inizio per Andrea Cocco, che non gioca da diverso tempo, se non da subentrato. E per il 29enne attaccante Sardo, nato a Cagliari e cresciuto nel Cagliari, sarebbe una grande soddisfazione, ma a tante può solo sperare. Una partita emozionante all'inizio, soprattutto andare in quello stadio lì, dove comunque sia sono cresciuto e mi ha lanciato tre professionisti. Però poi dopo il fischio iniziale si pensa solo al bene del pescare e a portare a casa i più punti possibili. Andare con la prima in classifica e fare un risultato positivo sarebbe tanta roba, quindi speriamo, abbiamo tutte le carte in regola per mettere in difficoltà e per portare a casa dei punti. Sicuramente facendo una partita quasi perfetta, perché loro sicuramente sono, soprattutto in casa, sono omicidiali. Lasciare poco spazio perché loro davanti sono molto veloci e sfruttare le occasioni che ci capiteranno, perché ce ne capiteranno. Il torpedone Biancazzurro partirà dall'aeroporto d'Abruzzo domani pomeriggio con un volo charter. Anche i tifosi possono approfittare del pacchetto che prevede il viaggio insieme a Balkan Express e soggiorno in hotel in camera doppia, tutto a 210 euro, più 21 euro per la tribuna del Santeria, prevendita dei tagliandi fino a domani sera alle ore 19. Intanto il 24enne difensore del Cagliari Marco Capuano, che sabato sarà assente per infortunio, è stato rinviato a giudizio per guida in stato di ebrezza dal Tribunale di Pescara. Il 20 gennaio del 2014 Capuano, che militava nel Pescara alla guida della sua auto, uscì fuori strada sull'asse attrezzato, provocando il ribaltamento della vettura che rimase distrutta. Il giocatore restò illeso così come il suo allora compagno di squadra Uros Ciosici che viaggiava con lui. Il tasso alcolemico di Capuano risultò di circa il doppio oltre il limite di legge. Grazie a tutti.